Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sapete che io non mi hanno lo scorso mese mi hanno mandato alcuni film E quindi ho detto ma come una differenza degli altri youtuber che stanno qua su youtube Non sta speranza di le compagnie o i distributori che gli mandano i film Differenza loro io almeno ci credo veramente a questo diciamo al canale Amo il cinema amo i film e quindi io li vado ad acquistare E stiamo parlando proprio mi manca un film Ringrazio la posta che dovevo fare la consegna tutt'oggi invece l'hanno divisa Quindi questo lo farò domani se saranno confusi non lo so E qua sono i primi film e i film che dovevo ricevere e che non ho ricevuto Lo scorso mese da Midnight Factory Quindi questo film è pagato con i miei soldi Qua nessuno mi ha regalato un cazzo Quindi pensavo che la facevano un'edizione classic Invece è un'edizione normale Che giustamente non è un classic Lo vedrò con la regia cadia che sicuramente si incazzerà in un modo incredibile Perché praticamente Dracula non lo vuole toccato manco per sogno Soprattutto da Dario Argento Questo è uscito nel 2012 Film che vedi che faceva parte di questo inizio Di questa discesa di Dario Argento Dall'inizio 2000 Con il cartaio giallo Terza madre Questo altro qui Però questo qui Anche se ha tanti difetti Tanti problemi Tanti diciamo di cose che non vanno Non vanno Perché ha cambiato tante cose dal libro Perché Dario va a fare la sua interpretazione di Dracula E ne è uscito fuori un film che è costato un bel po' Per essere un film italiano Perché era uno dei primi Girato in 3D Lo vedi anche a casa di Sabra per la prima volta in 3D E mi ero reso conto che Prende era un film surreale E trash Sì Perché quando ho visto Dragolo che entrava in questa caverna Taverna, perdonatemi E budellava tutti Mi ero divertito Ma poi ho visto che lui si trasformava in una mantide Mantide religiosa Napone Moscone Che cazzo era? Io ho detto Porca puttana Dario Argento Che cazzo hai fatto? Perché questa è una merda Lo rivedremo in 4K L'ho comprato Mi è costato un bel po' Perché meno male che l'ho preso in offerta Perché era 35 euro L'ho pagato 25 euro E ve lo parlerò qua nel canale Come sempre Con peli Senza peli sulla lingua Nessuno mi punta Noi Devi parlarne bene Vi farò una recensione Non lo vedo da Veramente da un sacco di tempo Vedrò in Blu-ray direttamente E Blu-ray 4K Scusate Non Blu-ray normale Ma è incluso Come vedete Blu-ray 4K Blu-ray E più booklet Vedete Se vedete Dovete vedere in film 4K Perché certe persone dicono Ma io l'ho visto in 4K Dovete avere un lettore 4K Televisore 4K E un cavo ad alta velocità 2.0 Partiamo Ora Parliamo dell'altro film Che ho ricevuto Quindi Alla faccia vostra Stronzi Soprattutto quelli che dice Eh ma come io Ci arrivo al fine mese A comprarmi gli film A testa di cazzo Io pure io me le posso comprare E che prendi problemi Certi film E voglio evitarli A comprarli a prezzo bene Però questo l'ho preso Perché Non lo so E ho detto Vaffanculo Faccio vedere Che l'ho preso L'ho comprato Anche per voi Per parlarvene Che tutti quelli Che l'hanno ricevuto Vanno fatta Una leccata di culo Sicuramente A Che cazzo Che vi avranno detto Che giustamente Quelli là Sono dei pidocchiosi Che per niente Non se li comprano I film Perché veramente Alla fine Si sono aperti Il canale Per monetizzare E basta Invece io Disferenza loro Sì speriamo Che diventa veramente Un lavoro Io lo spero Ogni giorno Ma sono sempre qua Con la passione E lo sapete Con il cuore in mano Un po' tipo Barbaradus Però Barbaradus Pia per il culo Io no Partiamo con l'altro film Videokiller Uno Diciamo Un film Che ho voluto recuperare Sapete che io mi piacciono I film degli anni 70 80 Film di alti tempi Che avevano Molta più fantasia Di adesso Esce dallo schema Ti cattura E poi ti uccide Remote Control Film anche questo Del 1988 In italiano E non so se anche italiano Vi leggo un po' la trama Un piccolo b-movie Intelligente Un altro esempio Del perché Jeff Lieberman Sia considerato Un registro di culto Del cinema di genere L'AWKS Di uno sconosciuto film Di fantascienza Dal titolo Remote Control Ha fatto la sua apparizione Nei negozi Video di Los Angeles Scompagnata da cartonati Sonori che emettono Sano i suoni E la cui cima Ruota Una piccola antenna Le immagini Contenute nel film Però una volta I prodotti Il nastro Provocano Sospettabili effetti Collaterali Sui malcapitati Spettatori Un omaggio Della fantascienza Anni 50 Gli storici Videoclub Che negli anni 80 Erano parte Integrante Della vita quotidiana Di appassione Di cinema E non Videokiller È uno scatenato Tour Tour de force Multicolore Tanto originale Quanto Di stagrande Per la prima volta In assoluto In dpd In italia E io ragazzi Non me lo ho dovuto perdere All'ultima copia Pagata 13 euro Ma Ripeto Io sono sempre qui Per dimostrarvi Che io le cose Le compro Ok Mi metto Ora Anzi Faccio proprio una Un Per la copertina Mi preparo C'è una cosa Carina Carina Per la copertina Così Mi metto Perdonate Ma ho dovuto fare Questa cosa Perché mi serve La copertina Vediamo un altro E niente Vi li porterò In questi giorni Perché Come vi ho detto Sono stato molto impegnato Ho avuto un po' di Impegni Casini Quindi Scusatemi Se non arriveranno Velocemente Le recensioni Aspetto Un altro cofanetto Un altro film Che ci sono Due e tre L'ho preso A sette euro e novanta Caso non ci farò Un video direttamente Solo di quello Perché Non mi è arrivato Io lo farò il video Tutto oggi Invece Me la sono andata a prendere Dove non batte il sole Ringrazio nuovamente Le poste italiane Vedi quanto sono precise Che solo Hanno tre giorni Per arrivarmi Ste cose Come sapete Qui Chi vive al sud Come me Soprattutto sud Sud Sicilia Sa benissimo Le cose Deve buttare il sangue Per farvi arrivare Perché quando ero A casa di Katia A Napoli Mi arrivava l'indomani Quello che ordinavo Anche la legge Katia Non è molto contenta È molto nervosa Di questo In un senso Che gli dà fastidio In un senso Che si deve perdere E me ci sono abituato Ci sono abituato anche Vi farò qualche video unboxing Anche di questi film Gli ultimi acquisti Ve li mostro in più Perché so benissimo Che vi piacciono Anzi L'ultimo video Che ho fatto Mi pare una scorsa settimana È andato bene Io ringrazio tutti quelli Che hanno lasciato mi piace Hanno commentato Mi hanno fatti complimenti Io ringrazio tutti quanti Veramente Per il supporto Perché io sono qua Come ho detto sempre Anche grazie a voi E niente Ci vediamo Un prossimo video Mi raccomando Sosteniamo sempre Il cinema Anche se Sperando un giorno Che me le mandano E chiedo sapete Se non me le mando Io me le compro Non è questo il problema Però mi farebbe piacere Anche da Da content creator Mai Sei anni Che sono qua su youtube Farebbe piacere Speriamo che questo mese Vada bene Che Le varie distributori Mi mandano anche qualcosa A me Se no Amen ragazzi Ce li compriamo E ne parleremo Non ce n'è problema Lo sapete Io vi ringrazio una mente E ci vediamo Un prossimo video Ragazzi e ragazze Mi raccomando Se volete supportare In un'altra maniera Qua sotto c'è il super grazie E c'è la wish list Nella descrizione del canale Perché c'è tutto Io me lo dimentico Di metterlo qua sotto Nei commenti Qua per farvi capire Di quanto sono uno Che cerca Diciamo Regali Uno Me lo scordo pure Fatevi conto voi Quindi da qui vedete Quando sono Proprio la mia onestà Che non Mi dimentico anche Di fare queste cose Per cercare Di portare avanti Il canale Quindi fate tutto a voi Ragazzi Sta tutto a voi Sto cercando di arrivare A dieci minuti In frattempo parlo di altro Quindi stiamo a vedere Cosa arriva Mi mancava di recuperarmi Un altro film No Ultimo Mondo Cannibile Però come sapete Nello store Midnight La Fan Factory E vabbè Casomai Poi lo recupero da lì Vediamo Perché non sono Manco iscritto Lì compro sempre cose Su Amazon Ci vediamo al prossimo video E Mi raccomando Seguite i canali validi Che ce ne sono Non siamo in tanti validi Nel senso No Senza peli sulla lingua Perché di solito Preoccupa No Essere troppo liberi E dire Troppo quello che si pensa Certe volte va in contrasto E ci sono persone Che non apprezzano molto La sincerità Piace di più Essere preso Diciamo Per i fondelli Perché Fa male Certo Te senti la verità E Quindi Piace No Non sentire Non ascoltare Quello che Uno ha Da dire Da porre Niente Io Meglio che me lo vado Perché sto facendo il video Troppo lungo Penso che l'ho superato Di 10 minuti Così Per farci un discorsetto In più E se Siete fino a qua E avete sentito Tutti i miei deliri Cose L'hashtag è Io sono rimasto Così Proprio Pensare Proprio sereno Io E stare tranquillo Di coca Allora Proprio le persone Se le vedete nei miei video Anche se mi metto a delirare Fino a fine video Ci vediamo Nel prossimo video Ciao Proprio le persone Proprio le persone Proprio le persone